Borgo dei Borghi 2022, Suterra rappresenta la Sicilia. In quella gara che dal 2014 celebra la bellezza dei piccoli gioielli geografici che sono i borghi, su Rai 3, nella trasmissione alle falde del Chilimangiaro, sarà scelto il borgo più bello tra tutti. Ed è proprio in questa settimana, fino al 3 aprile, che sarà possibile votare online su Tera, nella pagina Rai dedicata al concorso dopo essersi registrati su Rai Play. Sicilia regina incontrastata e pluripremiata, incoronata per ben quattro volte, al primo posto con Gangi, Montalbano e Licona, Sambuca di Sicilia e Petrelia Soprana. Questo 2022 vede su Tera, in provincia di Caltanissetta, questo borgo che gareggerà facendo raccontare di sé le bellezze. Conta 1.500 abitanti con case caratteristiche che sembrano quelle raffigurate in quadri dei secoli precedenti, con una rete di piccole strade in pietra lavica e calcarea, e non solo, poi il monte San Paolino. A Sutera ogni angolo è storia, ogni pietra è leggenda, ed è proprio la leggenda che attribuisce le origini del paese ad Edalo, l'architetto atteniese fuggito dal labirinto di Creta e accolto proprio dal sovrano di Sutera, Cocalo. Tra le bellezze del paese c'è anche la Cappella di San Marco, che si trova a quasi un chilometro dal centro abitato, scavata nella roccia all'interno della Rocca di San Marco, c'è una nicchia di 70 centimetri di profondità, questo e molto altro si scoprirà sulle bellezze di Sutera come borgo, e poi si dovrà attendere il 17 aprile per sapere chi sarà il vincitore dell'edizione 2022.